Chrome LG TV Se hai una TV LG e sei alla ricerca di nuove funzionalità, allora devi assolutamente guardare questo video su come utilizzare Chrome TV LG. Con l'aiuto di questa funzionalità, puoi trasformare la tua TV in un dispositivo di streaming con accesso a una vasta gamma di contenuti online. Chrome TV è una funzionalità che permette di trasmettere video e audio dalla TV usando il browser Google Chrome integrato. Ciò significa che con Chrome TV LG puoi accedere a una vasta gamma di contenuti online, tra cui programmi TV, film, serie, musica e molto altro ancora. Inoltre, puoi utilizzare il tuo smartphone o il tuo tablet come telecomando per navigare tra i contenuti. Per utilizzare Chrome TV LG, devi innanzitutto verificare che la tua TV LG supporti questa funzionalità. Se la tua TV LG è dotata di sistema operativo WebOS, è probabile che già sia compatibile con Chrome TV. In caso contrario, potresti dover aggiornare il software della TV o acquistare un dispositivo aggiuntivo. Una volta verificata la compatibilità, puoi accedere alla funzionalità Chrome TV dalla pagina iniziale del browser Google Chrome. Da qui, puoi cercare contenuti online, salvare i tuoi preferiti e navigare tra le diverse opzioni di streaming. Inoltre, Chrome TV LG supporta anche la funzione di mirroring dello schermo, che ti permette di condividere lo schermo del tuo smartphone o del tuo tablet sulla TV. Inoltre, con Chrome TV LG puoi utilizzare il tuo dispositivo mobile come telecomando. Puoi navigare tra i contenuti, aumentare o diminuire il volume e molto altro ancora, senza dover utilizzare il telecomando tradizionale della TV. In conclusione, se vuoi accedere a una vasta gamma di contenuti online sulla tua TV LG, allora devi assolutamente guardare questo video su come utilizzare Chrome TV LG. Questa funzionalità ti permette di accedere a contenuti online, utilizzando il browser Google Chrome integrato nella tua TV. Inoltre, puoi utilizzare il tuo smartphone o il tuo tablet come telecomando per navigare tra i contenuti. Non aspettare oltre, guarda subito il video e scopri tutte le funzionalità di Chrome TV LG. Grazie per aver guardato questo video. Se volete aiutare il canale non dimenticate di iscrivervi. Da qui vi auguriamo una buona giornata.